Read a Tale, i podcast degli audio racconti, un canale read and play. Eleonora Pizzi legge il racconto Violoncello solo di Federica Piacentini, contenuto in Live, storie di vita e di concerti, Arcane Edizioni, a cura di Davide Morresi. Non avevo udito nessun suono che non fosse stato quello del mio violoncello, se non consideriamo le imprecazioni sempre più stonate di Alex. Così, quando il riff della chitarra elettrica risuonò nelle mie orecchie e il basso elettrico a seguire e i piatti a tintinnare, di colpo mi sentì di nuovo nel mio corpo. Era l'aprile del 2021, il mondo intero si era fermato, la pandemia ci aveva zittito e quello era il mio primo concerto. I 55 Bar, un'istituzione qui a New York City. Non ci mettevo piede da mesi e non soltanto lì. Non potevo fare a meno di battere il piede. So chiudere gli occhi, tenermi forte a quel tavolino a cui ero seduta io sola. Due anni prima non avrei potuto nemmeno appoggiare la birra in un angolo. Due anni prima avrei dovuto aspettare un'ora per entrare, mancando magari il primo set, o pregare Irina, dietro il bancone da un decennio, di saltare la fila. Andava bene anche quel posticino in fondo, vicino alla porta del bagno, sullo sgabello, quello che fa gola ai fan più accaniti o ai musicisti, come me. Il locale manteneva intatto il consueto odore, dolciastro di birra misto a legno e sudore, ed era attraversato da un brusio di sottofondo, sul quale le mie orecchie, ancora guzze, si erano sintonizzate, quel chiacchiericcio che annegava nei whisky, nei cocktail, negli applausi lunghi e spontanei, nei bis, nei tris, nel secchio in cui cascavano biglietti verdi e numeri di telefono. Seduta lì, a godere di musica viva, suonata, dopo anni della mia sola melodia, scritta, diretta, vissuta durante l'ultimo atto della farsa con Alex. Respiravo a pieni polmoni, aria e musica, e mi domandavo dove fossi finita io in tutto quel tempo. Facce mai viste prima. Alla batteria ho un ragazzo nuovo del quartiere. Non abitavo lontano da qui, da Christopher Street. Ero al civico 61 della 4th Avenue, un palazzone nuovo senza topi. Alla chitarra idem, il bassista aveva un che di familiare, non importava. Ciò che importava era tornare a sedere a pochi metri dal palco, lasciarsi sedurre dai beat e dagli accordi, incrociare gli sguardi dei musicisti, segnare ogni nota sotto i polpastrelli. Alex se ne andò pochi mesi dopo il gran casino della pandemia. Eravamo insieme da anni. Finché è durata, abbiamo dipinto di gioia le notti blu del West Village. Lui suonava il piano. Lo fa tuttora, ma non ha mai voluto insegnare o dare ripetizioni. Ai marmocchi ci pensi tu, mi diceva. Intanto quei marmocchi hanno mantenuta accesa la luce e infilato nel frigo un cartone di latte per il giorno dopo. Amavo far colazione all'europea, croissant e cappuccino. Ma al piacere delle abitudini ho dovuto rinunciare in nome della sopravvivenza. I primi tempi abbiamo vissuto canticchiando e scribacchiando, facendo l'amore sul letto a due piazze del nostro studio, litigando senza respiro perché lo spazio non era sufficiente e le energie si erano trasformate in cappi sotto il mento. Idee interrotte, dimenticate, gettate nello scarico, nella pattumiera. Idee musicali intendo, perché la vita per il resto si era trasformata in un'utopia. Quel gran rio che mi attraversava il petto si stava prosciugando e si era ridotto a un rigagnolo agonizzante. Alex mi osservava spesso, lo sguardo di un animale in gabbia. Essere costante oggetto del desiderio della controparte era piacevole. L'amore aveva sostituito la vita, ma poi divenne un'ossessione. Alex non era un energumeno, ma gagliardo. Teneva spesso le mani conserte, le tirava fuori soltanto per premere i tasti del pianoforte e quando spingeva su un accordo in particolare, il viso lungo si fletteva su un lato e le sopracciglia folte e corrucciate nascondevano i begli occhi oltre mare. Veniva da Santa Monica, dall'oceano, gli dicevo spesso scherzando. New York era la meta designata per diventare il musicista che aveva sempre sperato di essere. Nessuno aveva messo in conto la pandemia. Stava perdendo la freschezza dell'età matura, quello sguardo aperto e positivo del giro di boa dei 30 quando qualche risultato l'hai raggiunto. Bastò poco perché iniziasse a lamentarsi. Io questo silenzio non lo reggo, non abbiamo più un cent. Cosa pensano questi farabutti? Come si può pagare un affitto in condizioni simili? Rinchiuso in casa si sentiva perso. Gli mancava il mondo fuori, diceva. E a me allora? Anche a me mancava. Eppure io ci provavo a buttare giù una melodia, due note, a prendere il violoncello e tenere allenate le dita. Lui invece si era piano piano dissipato. All'inizio quando in un mese o poco più si sperava di esserne fuori era tutto un suonare a distanza. Poi la distanza è entrata in casa e siamo diventati nemici. Alex frugava tra i miei spartiti, sbraitava perché credeva che avessi copiato dei suoi e definiva i miei tentativi di comporre disperati, patetici, inutili. Allora io, quando lui dormiva per ore dopo essersi ingozzato di uno scadente malbec da dieci dollari, mettevo a soccuadro la casa in cerca di sue composizioni. Ma non ne trovavo neanche l'ombra. Lo guardavo sonnecchiare, allungarsi scomposto tra cuscina e lenzuola. Quanto eravamo stati felici, notte dopo notte, tra musica e albe, vent'anni appena. «Piacere, Vivien!» Era l'una passata. All'Arling's Grocery suonava una band strepitosa, solito trio con violino e violoncelle e un rapper, di quelli finissimi. E io notai un ragazzo alto e biondo, in fondo alla sala. Mi sollevai sulle punte. «Piacere, Vivien!» ripetei ad alta voce. «La musica ci sovrastava!» Lui si avvicinò. Sussurrò il suo nome al mio orecchio. «Alex!» Poi sfiorò i miei boccoli rossi. Le gotte pizzicate di Effelidi si innamorarono. Sollevai con garbo un ciuffo dalla fronte e studiai i lineamenti greci del volto di quell'intrigante sconosciuto. «Suona il violoncello!» urlai. «Ti va una birra?» Lui sorrise. «Gli ero sembrata una bambolina», mi confidò. «Una rossa dai bei boccoli, occhi nocciola, un vitino di vespa, un top variopinto ad ali di farfalla a coprire i seni, una vergogna finita in fondo all'armadio. Ci siamo amati come quel giorno e abbiamo rincorso avventure. Poi qualcuno ha spento la luce. E io e te, Alex, non ci siamo più ritrovati. La musica non è abbastanza quando la vita annaspa». Un pomeriggio, mentre ripassavo una delle suite di Buck, Alex blatterava ad alta voce, con piglio nervoso. Si era convinto di essersi ammalato. Lavava le mani anche se era stato in casa tutto il giorno. Aveva litigato con sua madre, aperto l'ennesima bottiglia di vino. Si lagnava di un aiuto economico sperato ma rimandato. «Lei non capisce!» diceva. «Ho solo bisogno di un prestito! Qualche soldo per campare!» «Dai, non esagerare. Anche i tuoi se la passano male. Non ci badare». Ero di spalle. Ricordo soltanto una raffica di colpi sulla nuca, sulla schiena. I colpi divennero pugni. I pugni divennero calci. I calci divennero morsi e i giorni si fecero bui e io scrutavo con ansia l'orologio, in attesa che il sonno coprisse le ore diurne e mi restituisse alla pace dello spirito. Alex aveva preso a bere. Poi non gli bastò più neppure quello. Spalancò la porta di casa. E se ne andò. E io tirai un sospiro di sollievo. Del principe dell'Arlings Grocery non rimase che una valigia e il pianoforte. «Vienite di apprendere!» gli ordinai. Non usai toni comprensivi, mezzi termini. Doveva fare a modo mio. Lui eseguì. Si fece aiutare da suo padre. Non l'avevo mai visto prima. Non avevo perso niente. La sua stessa copia, con molti anni e grasso in più. Alex tirò su col naso un paio di volte, insieme ai pantaloni che cascavano. Era dimagrito. Aveva tagliato i capelli. Teneva fermo lo sguardo sul parquet, la schiena curva. Era fine maggio. Disse «ciao» e di nuovo scomparve. Rassettai, acquistai delle piante. Avevo adesso una stanza tutta per me, mentre fuori il mondo ancora se ne stava in acquiescenza. Definì le mie giornate. Sveglio all'alba. Yoga e meditazione. Studio intenso sullo strumento sino all'ora di pranzo. Nel pomeriggio composizione. Infine una lunga passeggiata sulle Avenue Fantasma, tra saracinesche abbassate e riders. Comprai una scrivania, un giradischi e un computer nuovo, con telecamera di ultima generazione. Le lezioni online aumentarono, ragazzi per lo più. Il mio momento in banca passò dal rosso al verde, come un semaforo. Impostai un regime alimentare vegetariano, non più vegano. Acquistavo croissant con gelati. Al mattino mi sembravano oro. Andavo a dormire presto, alle 21. Non aprivo gli occhi prima delle 5. Chiamavo mia madre e mio padre. Li vedevo sereni. Mi tranquillizzavo. Scorsi la rubrica telefonica. Ricontattai tutte le mie amiche. Appena quest'incubo finisce, tutte a bere! Ma io intanto ero diventata stemia. Adottai un cane. Lo chiamai Strauss. Anziché camminare sembrava ballasse a causa di una malformazione all'anca destra. Il tempo passò senza musica. Non scrissi nulla. Non ne avevo voglia. Non mi sarebbe servito per campare. Non in quel momento. Il mondo se ne era andato in un'altra direzione. Poi capitò che Strauss si infilasse sotto al letto. Una tempesta di fine marzo. L'ultimo capriccio dell'inverno lo aveva spaventato. Dovetti pregarlo, ma anziché uscire lui, entrai io e la mia mano finì su un vecchio spartito. A giudicare dalla scrittura doveva essere mio. 19 ottobre 2020. Canticchiai. Seguì il pentagramma labbre socchiuse finché arrivò il silenzio. Il bianco. Il vuoto. Melodia interrotta di nuovo. Tenni fisso il foglio tra le mani. Uscì da quello spazio angusto. Strauss se la diede di nuovo a gambe. Raggomitolandosi questa volta in un angolo alle spalle di un maestoso ficus. Mia madre era entusiasta della mia nuova vita e sperava avesse ereditato il suo pollice verde. Rilessi il motivo, lo canticchiai di nuovo, lo stesi sulla scrivania. I fogli si impilarono e io persi lo spartito. Il telefono squillò. Vivian, sono Grace. Stiamo buttando giù roba nuova. Io e il mio coro gospel. Vuoi unirti a noi? No. Piantai una scusa. Tornare a scrivere avrebbe significato tornare a vivere un amore, un sogno, alimentare un desiderio, una nube che si era dissolta nel mio cielo terzo. D'altronde stavo bene così. Mesi dopo il telefono squillò di nuovo. Vivian, abbiamo bisogno di una violoncellista. Potrebbero spuntare fuori dei concerti privati. Poca gente, tampone obbligatorio. Tentennai. Le ricordai che sarebbe stato un rischio. Ma la paga era buona. Altrettanto buoni erano i miei conti. rifiutai. Ma Grace tornò a battere. Il Lincoln Center riapriva le audizioni. C'erano discrete possibilità per una come me. Fui costretta a un sì. Uscì dal mio bozzolo. Cos'ero diventata nel frattempo? Non lo sapevo ancora. Avevo tagliato i capelli al mento. Adoperavo soltanto la matita nera sugli occhi. Indossavo lunghe, ampie, gonne e t-shirt. Portavo con me uno zaino e il violoncello. Avevo abbandonato tacchi, abiti, trucchi, gioielli vistosi. Superai l'audizione. E quel arrivo invase i miei organi tornando a correre con allegra follia tra le viscere e il cuore. Corsi alla scrivania. Cercai lo spartito. Lo infilai nello zaino. Mi catapultai al 55 bar. Grace mi aveva detto che avevano riaperto. Basso, chitarra, batteria. Mentre ascoltavo la band suonare, avevo acceso la mia astronave. Afferrai la biro e ripresi a comporre lì dove il silenzio aveva avuto la meglio sulla musica. La mia musica. Cosa ti porto? Una birra? No Irina, grazie. Una coca con ghiaccio. Scrissi per tutta la durata del concerto. E mi piacque. Mi piacque l'idea che quell'allegria non fosse stata scansata via del tutto dalla mia vita. Che io fossi ancora in grado di dire la mia e di farlo con le note, mettendole nella sequenza giusta del mio punto di vista. Quando suonarono Something's gotta hold on me. Mi si strinse lo stomaco nella forte commozione di essere sopravvissuta. Mi alzai, lasciai la coca a metà e tornai a casa. Continuai a scrivere e non mi fermai finché non vidi il sole campeggiare al di là dell'Hudson. Rida Tale. Avete appena ascoltato il racconto Violoncello Solo, di Federica Piacentini, contenuto in Live, storie di vita e di concerti, arcane edizioni, a cura di Davide Morresi, letto da Eleonora Pizzi. Un podcast Read&Play. Scopriteli tutti su read&play.it